Cicalese Interni mette a disposizione un vasto assortimento di prodotti con ampie possibilità di personalizzazione per creare spazi che rispondano alle differenti esigenze funzionali ed estetiche. Quest'anno il cartellone degli eventi dei grandi interpreti all'abbazia ancora una volta sarà orfano della festa medievale e del corteo storico rievocativo della visita all'abbadia di Papo Urbano II nel 1092. Un evento che negli anni scorsi ha richiamato nell'antico borgo del Corpo di Cava migliaia di persone provenienti da ogni angolo della campana e non solo. A causare il mancato svolgimento della festa medievale l'esiguità dei fondi a disposizione per l'allestimento di un evento di tale portata. A fare la sua parte è soltanto il comune di Cava dei Tirreni che ha confermato il contributo di 2.000 euro che però servirà a coprire a malapena i costi dei concerti della rassegna organistica in corso di svolgimento all'abbazia. Abbiamo carenze di carattere economico, la manifestazione nel suo complessità costa intorno ai 26.000-28.000 euro. Abbiamo una giocenza di cassa molto irrisoria, l'amministrazione comunale ci ha supportato con 2.000 euro, la regione che fino al 2014 ci ha aiutati quest'anno non ci supporterà e pertanto siamo nell'impossibilità di poter realizzare una manifestazione costosa. Le associazioni organizzatrici della festa medievale Archibuggeri Santissimo Sacramento, Borgo Badì e San Giovanni Bosco allo stesso tempo hanno raccolto l'invito lanciato dall'assessore ai grandi eventi Enrico Polichetti ai nostri microfoni di prendere parte in tempi ragionevoli ad un apposito tavolo di concertazione per programmare in futuro l'evento. Meglio tardi che mai, è un auspicio. Speriamo che però l'anno prossimo non ci ritroviamo al 21 luglio ancora con l'organizzazione del tavolo tecnico. Ma la notizia che mi fa piacere personalmente è che finalmente abbiamo un interlocutore col quale poter rappresentare le problematiche e le esigenze complesse per organizzare una manifestazione che ricordo parte agli inizi di luglio e si completa il 26 dicembre. La festa medievale è uno dei tanti appuntamenti storico-foltoristici della città metelliana che non hanno ottenuto alcun riconoscimento dalla regione campania in quanto il comune di Cava dei Tirreni ha deciso di candidare al bando altri progetti che poco hanno a che vedere con le caratteristiche storico e culturali della città uniche nel suo genere. Insomma sono rimasto un attimino meravigliato guardando poi il curriculum delle manifestazioni finanziate alla regione campania che ho visto che effettivamente sta investendo sul turismo e sulle attività che promuovono del turismo. Chiaramente quest'anno ha avuto un impegno più oneroso rispetto allo scorso anno. Purtroppo non so per quale motivo Cava dei Tirreni non rientra nelle città o nei comuni finanziati nonostante ritengo che le manifestazioni folcloristiche così come viene enunciato un po' dalla politica io dico dalla politica perché dagli amministratori in questo momento nella nostra città così come l'è stato per il passato dovrebbero essere il volano che mettono in moto una serie di attività per incrementare il turismo e aumentare i fatturati per i commercianti. Penso che bisognerebbe un attimino fare una riflessione anche perché so che per certo il Comune di Cava mi sembra che abbia partecipato con un progetto che non riguarda proprio per niente le attività folcloristiche più importanti della città che dovrebbero essere quelle che dovrebbero fare da attrattore insomma avendo delle unicità a livello nazionale. E' chiaro che si rimane colpiti quando si vedono delle manifestazioni a livello regionale cui la regione campagna ha segno di finanziamenti importanti che hanno riguardato e riguardano la nostra città un esempio cioè quello che mi è saltato all'occhio in questi giorni è vedere senza nulla togliere gli amici di Tramonti per amol del cielo che sicuramente hanno avuto una geniale idea essere finanziati a regione campagna con 40.000 euro con una battaglia di Sarno anno d'uomo nel 1460 mi ha lasciato un attimino perplesso nonostante noi sono quasi 50 anni a Cava che parliamo di referrante battaglia di Sarno, pergamena bianca e questi fondi onestamente la città di Cava di Tirreni non li ha mai visti quindi non so bisogna fare un'attenta riflessione credo che gli amministratori debbano un attimino capire eventualmente se è il caso di investire in queste attività perché se i progetti non riguardano le attività folcolistiche della città beh c'è tutto insomma alla fine voglio dire ognuna delle proprie ideologie però basta essere molto chiari e precisi prima insomma uno cerca di investire in maniera diversa e di ritagliarsi gli spazi che merita con le due attenzione